Gentili telespettatori, buona giornata. Anche i giornali di destra sperano in una privatizzazione della RAI, cioè piacerebbe a tutti una RAI privatizzata, piacerebbe a tutti un salario minimo. Però al governo oggi salario minimo e RAI questi temi diventano problematici perché nella coalizione di centrodestra c'è una famiglia di grandi imprenditori e in questa famiglia di grandi imprenditori ovviamente il salario minimo non è visto di buon occhio. La privatizzazione della RAI darebbe un serio problema di fatturato a Mediaset. Quindi oggi la Meloni si trova di fronte, anzi si trova con degli alleati che non sono proprio sulla stessa linea. Certo, se all'interno del tuo governo c'è un partito, un partito che i proprietari sono una delle famiglie più potenti italiane sotto l'aspetto economico, alcune cose non le puoi fare, o meglio, puoi provare a farle, poi bisogna vedere se il governo va avanti. La Meloni scrive il giornale, a rientro troverà il re Busrai e il terzo polo che perde pezzi. Eh sì, Giorgia Meloni in rientro da Pechino. Si parla di bilancia commerciale, che l'Italia intende aiutare le imprese italiane, eccetera, eccetera, che la via della seta evidentemente non ha funzionato, che adesso si prende un'altra strada, c'è uno sbilancio commerciale di 41 miliardi di euro, perché chiaramente è più quello che noi compriamo in Cina di quello che la Cina compra da noi. è ovvio, no? Non potrebbe essere diversamente. Riequilibrare la bilancia commerciale con la Cina è decisamente un'utopia, però, insomma, il compito della politica è quello di provarci. Adesso che torna in Italia la Meloni ha il problema Rai, il problema Rai che non è solamente la privatizzazione che è venuta fuori. Lei poi ha detto, io su questo non ho nulla da dire, anche perché non so da dove vengano queste indiscrezioni, come dire, io non ho mai pensato a privatizzare la Rai. Era Salvini, praticamente, che aveva tirato fuori questa cosa di togliere il tetto alle pubblicità per cancellare il canone. E subito era arrivato l'altolà di Tajani. Beh, l'autonomia non è che sia proprio un dogma, come dire, non toccare la Rai, perché toccando la Rai, tocchi Mediaset, non toccare la Rai, perché l'autonomia che tanto ci tieni non è propriamente così necessaria. Avete capito il messaggio che ha mandato la famiglia Berlusconi a Salvini e Meloni attraverso Tajani? A me è chiarissimo, spero che lo sia anche per voi. Adesso ci sarà la spartizione, le nomine in Rai. Eh, perché? Ma come? La Rai non era indipendente, ma la Rai non era assolutamente autonoma, ma non si era detto che il governo non aveva nessuna intenzione e non ha mai fatto nessun tipo di ingerenza in Rai. Eh, però le nomine in Rai chi le fa? Le fa chi governa. Le nomine in Rai. Si discuterà di nomine con Tajani, con Salvini e bisogna procedere anche perché si è dimessa pure la presidente Marinella Soldi, quindi sicuramente dobbiamo occuparci nelle prossime settimane. Quindi capite che le le leggi italiane dicono che la Rai è un'azienda di Stato ed è sotto il controllo di chi governa. Chi governa, diceva Renzi con una legge nel 2015, ha il diritto dovere di mettere le sue persone e quindi adesso le nomine in Rai chi verranno messi? Verranno messe persone scelte dal governo e il governo quali persone sceglierà? Sceglierà dei fedelissimi, cioè delle persone che il Rai si adopereranno per far passare il verbo del centrodestra, il messaggio del centrodestra. Quindi è inutile che andiamo in giro a dire che la Rai è autonoma, che la Rai è indipendente, che è servizio pubblico. La Rai è al servizio di chi governa, non è servizio pubblico ma al servizio di chi governa. Quindi basta andare in giro a raccontare storie di Babbo Natale perché davvero, ho capito che gli elettori basta che gli racconti quello che vuoi, loro ci credono. Però anche basta, anche basta. E così il CDR, non il CDR ma il CDA, il Consiglio di Amministrazione della Rai, si parla di uno slittamento a settembre, spiega il presidente del gruppo di Forza Italia al Senato Gasparri, dice il gruppo del PD si è espresso contro la calendarizzazione. Il gruppo della Lega ha chiesto di riflettere. Io ho ricordato che la procedura è complessa, la Camera elegge due componenti, il Senato altri due, il governo ne designa due, poi si riunisce il CDA per eleggere l'amministratore delegato e incaricare il presidente che deve essere sottoposto al voto della vigilanza. E così la russa presidente del Senato ha spiegato che lunedì alla conferenza dei capi gruppo verificherà se c'è una maggioranza su una data per l'elezione dei componenti del CDA Rai, ma decide la maggioranza dei presidenti dei gruppi e non il presidente. Quindi mi capite bene che la Rai di autonomia non ha neanche le matite, è completamente sotto il controllo diretto della politica. Chiaramente. Intanto i due vicepremier, Tagliani e Salvini, dopo una serie di tensioni, cercano di recuperare la sintonia. Il punto è questo, basta non parlare più di Rai e tutto torna sereno. Dentro Forza Italia si guarda il disfacimento del terzo polo che può portare nuove entrate e consensi di moderati. In Italia Viva Luigi Marattin contesta la svolta a sinistra di Matteo Renzi. In azione Raffaele Costa si è dimesso da vice segretario e sembra sempre più lontano da Carlo Calenda. Costa potrebbe rientrare tra gli azzurri ma non ora come Maria Stella Gelmini, mentre con Nike gruppioni sempre di azione la trattativa sembrava conclusa ma si è fermata. C'è un fuggifuggi da Italia Viva? A Renzi non gliene può fregare di meno, a lui interessa il suo lavoro come politico salvaguardarlo. Arrivederci a tutti e grazie.